VINI RIZI SAITERRE WINE GROUP 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 Io non sono che ci dà sempre una mano fondamentale prossime iniziative oggi nate? siamo partiti il 27 di maggio con la rassegna piccoli dialoghi grandi monologhi con Paolo Dann arriviamo al quarto appuntamento proprio domani sabato sera sabato 24 con la luna il gitano una rappresentazione teatrale che andrà in scena sul nuovo palco di Villa Sirtoli alle 21 tratto dall'opera di Garcia Lorca Le prossime iniziative poi saranno sempre della stessa rassegna a luglio, il 14 e il 20, il 14 con Francesca Falco, meglio sola che a mogliata e il 20 invece con Patrizia Militri al convento di Santa Maria alla Vite per la terza rappresentazione letteraria che in qualche modo contrassegnava questa rassegna. Fuori invece al di là della rassegna ci sono altre iniziative, vi è stata proprio domenica scorsa il Milano Saxophone Quartet perché abbiamo aderito alla rassegna di Brianza Classica e invece ci ritroviamo poi a luglio, il 3 di luglio sempre con il Giardino delle Speridi che torna a Olginate specificamente a Consonno e il 16 di luglio abbiamo collaborato con l'associazione Amici di Massi per una giornata in memoria di Massimiliano organizzando un grande concerto a Consonno sempre insieme agli Amici di Consonno con una serie di gruppi locali. Bene, grazie Davide, ora però spostiamoci a Calozzo Corte perché c'è un tema molto scottante, probabilmente 25 richiedenti asilo verranno ospitati nell'ex distretto Asl in centro città e la Lega annuncia barricate. L'ex distretto sanitario di Piazzale Kennedy nel cuore di Calozzo Corte potrebbe presto ospitare 25 profughi, Prefettura, Amministrazione Comunale e Comunità Il Gabbiano hanno infatti avviato un confronto con altre realtà locali per valutare il riutilizzo in ottica di accoglienza dell'immobile da diversi anni vuoto dopo il trasferimento dei servizi Asl nel poliambulatorio di Sala. È un'ipotesi su cui stiamo lavorando, conferma l'assessore ai servizi sociali Luca Valsecchi. Calozzo, considerando la quota del 3 per 1000, dovrebbe ospitare 40-45 richiedenti asilo. Oggi sul territorio sono presenti in sedici e l'ex mutua, dopo alcuni lavori di adeguamento e verifiche tecnico-giuridiche potrebbe ospitarne quasi 25. I rifugiati che potrebbero essere accolti dall'inizio del prossimo inverno sono quelli inizialmente ospitati a Albione. Stiamo muovendoci con la massima attenzione, consapevoli del fatto che quello dell'accoglienza è un tema delicato, ma allo stesso tempo è importante che un'amministrazione seria deve affrontare per gestire al meglio, aggiunge Luca Valsecchi. Arrivando a quota 40, Calozzo avrebbe raggiunto la sua soglia. A quel punto sarebbe giusto fermarsi. Abbiamo massima fiducia nella comunità Il Gabbiano, che ha sempre lavorato bene sul territorio. Aderendo al percorso SPRAR potremmo inoltre avere dei fondi dallo Stato per sistemare l'ex distretto sanitario da tempo vuoto e comunque l'intervento non avrebbe costi per il comune di Calolzio. Chi dice no all'accoglienza dei profughi è la Lega Nord, guidata in consiglio da Marco Gezzi. Siamo assolutamente contrari e siamo pronti a fare le barricate contro questa ipotesi, attacca Gezzi. Calolzio negli anni ha già dato sul fronte dell'accoglienza, siamo uno dei comuni con la maggiore immigrazione. E poi è un grave errore utilizzare uno degli immobili comunali di maggior valore in quel modo, precludendo ulteriori usi in futuro. Senza dimenticare che accogliendo numerosi profughi in quello stabile daremmo un'ulteriore mazzata al centro città, favorendo il degrado e non aiutando certo le attività commerciali. Duro in una nota anche il senatore leghista Paolo Arrigoni. Grave l'adesione allo Sprar da parte della giunta PD, tuona l'ex sindaco di Calolzio. Prima vengono gli interessi dei calolziesi, non quelli di un governo autore di una gestione sciagurata e fuori controllo dell'immigrazione. Diego Colosimo del gruppo Cambia Calolzio definisce invece la scelta dell'amministrazione del sindaco Cesare Valsecchi sensata e condivisibile, pur con alcune critiche. Secondo l'esponente di sinistra occorrerebbe infatti una migliore distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo con iniziative di integrazione mirate. Assessore, chiediamo a te invece com'è la situazione accoglienza a Oginate? Ma una situazione molto positiva, abbiamo tra virgolette una storia da questo punto di vista, grazie anche per esempio alla scuola di Arabo che va avanti da otto anni a Oginate, grazie ad alcuni protagonisti avete avuto in studio anche Paolo Casu ultimamente con il Gabbiano, ha avuto un grande ruolo di integrazione e di interazione, che è una parola che noi preferiamo da questo punto di vista. La possibilità di includere queste persone anche all'interno della vita del paese tramite quei progetti che abbiamo attivato di cittadinanza attiva insieme ad Aria Bosio, per cui mettiamo in gioco i ragazzi anche nella pulizia del paese, in maniera tale per far capire anche alla cittadinanza tutta che loro fanno parte integrante della nostra collettività e che ci aiutano anche quotidianamente. Bene, ora parliamo ancora di Oginate perché purtroppo c'è stata una brutta notizia che ha fatto molto discutere qualche giorno fa, vediamo cos'è successo, possiamo già anticiparvelo, alcuni vandali hanno rubato le pietre disegnate dai bambini per la rotonda, ecco non tutte, una quindicina di pietre, delle oltre 200 che ci sono, quindi l'impatto visivo di questa bella opera c'è ancora, non è rovinato però il grave vandalismo c'è stato, vediamo. Un gesto da condannare che lascia davvero arrabbiati e senza parole, il sindaco di Oginate Marco Passoni commenta così il furto delle pietre disegnate dai bambini del piedibus per abbellire la rotonda tra la provinciale e via Belvedere. La rotatoria, riqualificata e inaugurata solo due settimane fa grazie all'impegno delle scuole e delle associazioni con il sostegno del comune, è stata presa di mira dai vandali, probabilmente un gruppo di giovani che hanno portato via una dozzina di sassi dal cerchio delle emozioni. Così è stato infatti chiamato il progetto che ha portato circa 300 alunni a colorare numerose pietre poste ad arredare la strada, richiamando idealmente il cammino dei cittadini oginatesi con i propri bagagli di vita, amicizie ed esperienza all'interno della comunità, un'iniziativa di valore civico purtroppo rovinata da qualche ignoto che le autorità locali sperano ora di individuare anche grazie alle testimonianze dei vicini. Appena saputo del furto siamo rimasti molto dispiaciuti, i bambini tenevano tanto ai loro lavori e davvero non si capisce il motivo di quanto accaduto, commenta Silvia Cazzaniga, portavoce del piedibus solginate. La delusione anche come insegnante è grande, porremo ovviamente rimedio, il danno non è ingente, la speranza è che non capitino più vandalismi del genere, anche perché in paese purtroppo non è la prima volta che accadono. Rieccoci a noi Assessore, dobbiamo chiederti un commento per l'accaduto, davvero un brutto episodio che ha fatto molto molto discutere. Una vicenda sicuramente non felice, da segnalare sicuramente la questione in sé potremmo dire quasi bagatellare, perché si tratta davvero del furto di una quindicina di pietre come dicevi tu poc'anzi prima del servizio. Furto tra l'altro effettuato da ragazzi di una macchina che è stata vista da un nostro concittadino targata a Milano, che ha subito in qualche modo provocato la reazione unanime del paese di indignazione, per cui l'elemento del fatto che questa cosa è stata commessa da una persona esterna alla nostra cittadinanza e che la nostra cittadinanza sia unita per lamentarsi di questo gesto brutto, ma in sé, ripetiamo, non così eclatante, se non per la eco che ha avuto dal punto di vista giornalistico, ci fa pensare che abbiamo fatto una cosa bella, che è piaciuta frutto anche di un'ottima sintonia nel mondo dell'associazionismo. Mi unisco da questo punto di vista alle parole di Silvia Cazzaniga di Scolaboriamo, che è consigliere comunale insieme a me. All'interno di quel cerchio delle emozioni rimane sicuramente il progetto, rimane esteticamente bello, un danno per quanto comunque contenuto che comunque verrà risolto, verrà ripristinato nei prossimi tempi. Ma ci sono stati altri vandalismi in paese, ci dicono? Ci sono stati probabilmente dei gesti che hanno prodotto, visto che Olginate non è una zona nota per essere troppo esposta alle cronache, qualche giornalista mi diceva che non succede mai niente, è del tutto evidente che quando c'è qualche fatto un attimino fuori dalle righe abbia una eco dal punto di vista giornalistico importante. Qualcosina c'è stata anche Olginate, pensiamo alle auto andate a fuoco, vabbè, qualcosa c'è stato. Sì, sono vicende che afferiscono alle questioni private del cittadino. Sì, qui parliamo di vandalismi comunque. Qui parliamo di vandalismi, non vi è sicuramente la dimensione per cui c'è un allarme e vandalismi in paese, Olginate è un paese tranquillo, sereno e noi non siamo troppo preoccupati da questo punto di vista. Va bene, grazie Davide. Ora continuiamo con il nostro settimanale, torniamo a Calolso Corte perché è stato confermato il fallimento della trafileria Brambilla di Calolso Corte, appunto ci dice tutto il direttore Katia Sala. Ufficializzato dalla Corte di Cassazione fallimento della trafileria dell'Ario, già trafilerie Brambilla di Calolso Corte, i giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte hanno infatti rigettato l'istanza degli appellanti, presentata dal noto avvocato Romano Vaccarella, ritenendola infondata. Si chiude così la storia dell'impresa calolziese di proprietà della famiglia dell'ex ministro Michela Brambilla, fondata agli inizi degli anni 40 e dichiarata fallita dal Tribunale di Lecco nel settembre 2014. Circa 55 milioni di euro il passivo accertato dal curatore fallimentare, una vicenda che aveva tenuto banco a lungo dei primi segnali di crisi al licenziamento della settantina di dipendenti in forza fino a tre anni fa, con le trattative poi andate in fumo, per cedere l'azienda ad un gruppo industriale turco. Ma ora, con il fallimento confermato anche dalla Cassazione, un altro fronte potrebbe aprirsi a seguito dell'indagine avviata e conclusa dai pubblici ministeri lecchesi Nicola Preteroti e Paolo Delgrosso. Sette gli indagati con l'ipotesi di reato di bancarotta patrimoniale dolosa. Vittorio Brambilla, già presidente delle trafilerie. La figlia Michela, che secondo gli inquirenti avrebbe svolto il ruolo di amministratore di fatto della società, oltre al liquidatore, all'amministratore delegato e ai componenti del collegio sindacale. Tre, i filoni oggetto di verifiche ancora tutti da accertare. La presunta presentazione di false fatturazioni per ottenere credito facile dalle banche, la sopravvalutazione di un immobile e l'omesso versamento dell'IVA. Nelle prossime settimane è attesa la decisione d'EPM in merito alla richiesta di rinvio a giudizio. Il padre dell'ex ministro era già stato condannato in primo grado a un anno e quattro mesi dal tribunale di Lecco per non avere corrisposto all'erario l'IVA per l'anno 2011. Valgregantino si sta preparando la sua prima notte bianca. Per la prima volta anche a Valgregantino si terrà una notte bianca. Notte bianca proposta dalla Proloco di Valgregantino in collaborazione con il comune e i negozi del paese. Sappiamo che è una piccola entità, però noi dentro questa manifestazione vogliamo mettere tutto di più in modo che diventi anche un evento importante e grande. Oltre ai punti di ristoro dove ognuno potrà fermarsi per mangiare e bere qualcosa in compagnia, in uno di questi ci sarà anche un concorso di torte. Per proseguire poi ci sarà uno schiuma party per i giovani, per i grandi, per tutti. Per poi proseguire lungo il percorso dove ci saranno aperte i negozi. Ci saranno tanti obbisti che presenteranno i loro prodotti. per poi salire verso l'oratorio dove ci sarà una sfilata di moda, moda di abiti da sposo e non, affiancata da un karaoke e da una rappresentazione di ginnastica artistica. Poi salire verso la biblioteca dove verrà offerto un aperitivo culturale e ci sarà anche l'apertura di una mostra di un nostro cittadino, di Francesco Ingatti, una mostra artistica che rimarrà aperta fino a metà luglio. Scendendo poi lungo il percorso ci sarà una dimostrazione di auto e poi lungo il percorso ci sarà anche un piccolo, un cortile caratteristico per i bambini, i gonfiabili, con un trattenimento di magia. Nel nostro gazebo ci sarà un punto di riferimento per tutta la serata e ci sarà anche un punto di raccolta per i nostri amici terremotati di Caldarola. Quindi data e orario? Alla Notte Bianca si terrà il primo sabato, primo luglio a Valcrentino, precisamente a Villa San Carlo, inizierà alle 19 e finirà verso le 24. Assessore, rieccoci a noi, anche a Oginate si terrà una Notte Bianca. Quando e chi la organizza? Siamo riusciti a realizzare il secondo appuntamento annuale con la Notte Bianca, il primo vi è stato ad ottobre, il secondo si terrà l'8 di luglio, grazie all'ottima partecipazione e alla collaborazione che si è stretta fra i commercianti e l'assessorato al commercio, nella persona di Luca Dozzo, che ha saputo tirare le fila di una squadra che si sta sempre più rafforzando. Sarà ancora occasione di divertimento, ci saranno molte iniziative in paese, come progetto di giovani competenti tramite Eurostation della comunità montana, stiamo organizzando anche un concerto e quindi ci sarà sicuramente ottimo movimento in paese. Speriamo nella buona riuscita dell'iniziativa come c'è stata poi nell'edizione autunnale del 2016. Quindi appuntamento sabato 8 luglio. Grazie, grazie Davide. Torniamo a Erve invece per quest'ultima notizia, perché anche a Erve ci sono molte iniziative in vista dell'estate, ce ne parla in questa intervista il sindaco Giancarlo Valsecchi, che ringrazia anche gli alpini per l'ottimo lavoro fatto in occasione del recente Campo Scuola. Il Campo Scuola Natura e Rispetto, organizzato dal gruppo alpini della Val San Martino, è la terza edizione che viene fatta qui a Erve, è stata fatta l'anno scorso a Careno e due anni fa a Torre de Busi. Devo proprio dire che gli alpini hanno vinto una sfida, perché riuscire ad attrezzare un campo scuola con i 120 ragazzi nella boscaglia che c'era un anno fa è stata veramente una sfida che hanno vinto, ma gli alpini sono abituati a fare queste cose, quindi ancora una volta ci hanno lasciato veramente estere fatti, perché veramente hanno trasformato una boscaglia in un posto come era 50 anni fa, dove veniva anche coltivata la terra e sembra di essere in un altro ambiente, quindi li ringraziamo anche per questo perché poi il posto rimane comunque ancora a noi. Che zona è del paese? È la zona Frazione Torre. Questa è un'occasione per vivere ancora una volta di più il paese, per vivere Erve, tra l'altro nei prossimi giorni ci saranno nuove iniziative, quali in particolare? Abbiamo la prima domenica di luglio da quattro passi tra i sapori nel verde di Erve, ormai sono tante edizioni e ha sempre un numeroso successo, l'anno scorso c'erano quasi 600 iscritti, organizzato da tutte le associazioni ervese, il ricavato andrà interamente devoluto al comune di Erve per i servizi sociali come anche gli anni scorsi. E li ringraziamo ovviamente di questo grande gesto da parte del comune e a tutte le associazioni. Rieccoci in studio, un ultimo flash prima di salutare l'assessore, di salutarvi. Tu sei forse uno degli assessori più giovani nel nostro territorio, quanti anni? 24. Com'è questa esperienza politica? È un'esperienza sicuramente formativa e interessante. Il problema per un ragazzo intorno a questa età è saper bilanciare l'impegno in amministrazione, l'impegno anche nello studio, nel lavoro. Io nel mio caso sto ancora finendo l'università, studio giurisprudenza, per cui la capacità di mettere insieme le due cose è fondamentale. Però sono assolutamente contento della fiducia che mi è stata data da Marco Passoni, una fiducia non scontata. Va bene, grazie. Grazie Davide per essere stato con noi. Io ringrazio di cuore voi per averci seguito. Vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri servizi sul nostro canale di YouTube, di Teleunica e soprattutto sui nostri social Twitter e Facebook Teleunica. Buona continuazione sempre sulla nostra emittente. Vini Rizzi Seiterre Wine Group, a Lecco in via Baracca 40 e finalmente a Vercurago in via Piave 38. Non smettere di sognare, è tempo di libertà. Suzuki Vitara, il tuo stile di vita. Tu ha 17.700 euro. Suzuki. Concessionaria Renzo Negri. A Pescate, via Roma 28. 0341 36 22 21. www.concessionariarenzonegri.it www.concessionari.it